Prima Bene, oggi vi mostrerò come fare un cuore di carta con un semplice foglio di carta Il materiale è colla, stick e forbici E' il foglio di carta Bene No E' così Grazie Alla Grazie 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 Bene Dopo aver incollato così Anche se mi è venuto un po' male Da dentro apparirà così E dentro potrete scrivere qualunque cosa vorrete E poi potrete anche colorarlo di rosso